All'Aquila questa mattina sono scesi in piazza i familiari delle vittime del terremoto del 2009, tantissimi cittadini, rappresentanti di associazioni e sono arrivati in tanti anche da altre località abruzzesi per partecipare alla manifestazione che si è svolta alla villa comunale per ribadire il dissenso nei confronti della sentenza shock che ha assegnato il 30% di colpi a chi 13 anni fa è morto sotto le macerie di una palazzina in via Campo di Fossa. In piazza non c'erano bandiere né simboli politici, c'erano invece cartelli affissi in tanti angoli della città. Le vittime non hanno colpe oppure vittime del terremoto colpevoli commissione grandi rischi assolta. Come ha ribadito al microfono di Daniela Rosone anche Carla Esposito, parente di Francesco Esposito, morto nel sisma del 6 aprile. Oggi si ritrova unita la città perché non interessa soltanto chi è stato colpito proprio con questa sentenza e quindi noi, noi cittadini e soprattutto noi che siamo stati ugualmente colpiti dal terremoto insomma e quindi le vittime e tra le vittime c'era anche mio nipote Francesco. Quindi siamo ancora più solidali perché questa sentenza non è affatto giusta e perché ha colpito il nostro cuore. Perché non si può dimenticare, non si può dimenticare un figlio, un genitore. Cioè queste vittime colpevoliizzate per che cosa? Adesione e solidarietà sono arrivate da gruppi di altre città che hanno condiviso con l'Aquila tragedie analoghe come quella di Rigopiano avvenuta il 18 gennaio del 2017 nella quale ha perso la vita Cecilia Martella a parlare e la madre Angela Spezialetti. Ogni manifestazione cerchiamo di essere presenti anche perché siamo vittime di uno stato assente. diciamo che l'Aquila c'è stato questo terremoto e le persone che sono morte dire che hanno il 30% di colpe è proprio assurda la cosa. Anche perché erano stati rassicurati che erano scosse così. Chi se lo poteva immaginare. Stessa cosa per Rigopiano che praticamente è scesa questa valanga nessuno era stato avvertito o perlomeno a nessuno era stato detto che lì era zona valanghiva altrimenti mia figlia che lavorava su sicuramente me la sarei tenuta a casa.